un ritratto qualcuno vicino a me esclamò guarda milial osservai l'uomo che era stato nominato perché da molto tempo avevo desiderio di conoscere quel don giovanni non era più giovane i capelli grigi di un grigio chiaro assomigliavano a quelle cuffie pelose di cui si coprono certi popoli del nord e la sua barba fine assai lunga fluente sul petto aveva anch'essa un aspetto di pelliccia stava discorrendo con una donna curva su di lei e le parlava a bassa voce osservandola con uno sguardo dolce pieno di omaggi e di carezze conoscevo la sua vita o almeno quello che si sapeva di lui era stato amato follemente parecchie volte e in vari drammi il suo nome era stato coinvolto si parlava di lui come di un uomo seducentissimo quasi irresistibile quando interrogavo le donne che più ne tessevano l'elogio per sapere da dove venisse quel potere rispondevano invariabilmente dopo aver cercato un po non so è un fascino certo non era bello non aveva nulla di quelle eleganze di cui supponiamo dotati i conquistatori di cuori femminili mi chiedevo con interesse dove fosse nascosta la sua seduzione e la sua arguzia non mi avevano mai riferito a qualche suo motto spiritoso e neppure magnificato la sua intelligenza nello sguardo forse o nella voce la voce può avere una grazia sensuale irresistibile il sapore di un cibo squisito abbiamo fame di ascoltarla il suono delle parole penetra in noi come una ghiottoneria passa un amico e gli chiesi conosci il signor milial sì vorrei essergli presentato un minuto più tardi si stendiavo la mano e chiacchieravamo ciò che diceva era sensato piacevole ad ascoltarsi senza aver nulla di trascendente in effetti la sua voce era bella dolce carezzevole musicale ma ne avevo intese altre che ti turbavano di più dentro lo si ascoltava con piacere come si potrebbe guardare la cascata d'acqua di una vaga sorgente per seguirlo non era necessaria alcuna tensione di pensiero nessun sottinteso eccitava troppo la curiosità nessuna aspettativa teneva sveglio l'interesse la sua conversazione era soprattutto riposante e non suscitava in noi né un vivo desiderio di rispondere di contraddire né un'approvazione incondizionata ed entusiasta del resto era facile poterlo confutare come era facile ascoltarlo la risposta veniva dalle labbra da sé non appena aveva finito di parlare e le frasi andavano verso di lui come se ciò che aveva detto le facesse uscire dalla bocca naturalmente a un tratto dopo qualche istante di conversazione mi pareva mio intimo da molto tempo tutto chiaro tra noi e li avrei forse fatte sul conto mio se lui le avesse sollecitate quelle confidenze che solitamente non si fanno se non ai più intimi amici certo c'era solo un mistero quelle barriere chiuse che esistono tra tutti gli esseri e che col tempo cadono una a una quando la simpatia e gusti simili una stessa formazione intellettuale una costante frequenza di rapporti le hanno già dischiuse a poco a poco sembravano non esistere tra lui e me e indubbiamente anche fra lui e tutti quelli uomini e donne che il caso gli faceva incontrare sulla strada in capo a una mezz'ora ci separammo promettendoci che ci saremmo rivisti con una certa frequenza idea del suo indirizzo dopo avermi invitato a pranzo di lì a due giorni avendo dimenticato l'ora dell'appuntamento arrivai troppo presto da lui non era ancora tornato a casa un domestico silenzioso e corretto mi introdusse in un bel salotto un po triste intimo raccolto mi ci sentì subito a mio agio come se fossi a casa mia quante volte ho constatato l'influenza della casa sul carattere e sullo spirito esistono delle stanze in cui ci si sente sempre stupidi altre invece in cui ci si sente sempre pieni di brio alcune ci rendono tristi anche se chiare bianche e dorate altre ci rendono più gai benché tappezzate con stoffe sobrie l'occhio come il cuore ai suoi odi e i suoi amori di cui spesso non ci rende partecipi e che impone segretamente furtivamente al nostro rumore armonia dei mobili delle pareti lo stile di un arredamento agiscono istantaneamente sulla nostra natura intellettuale come l'aria di bosco di montagna modifica la nostra natura fisica mi sedetti sopra un divano che scompariva sotto i cuscini e mi sentì subito sorretto portato imbottito da quei sacchetti di piume ricoperti di seta come se la forma e la posizione del mio corpo li fossero stati segnati in anticipo poi mi dice a guardare nulla di chassoso nella stanza dappertutto belle cose modeste mobili semplici e rari tende d'oriente che non sembravano venire dal louvre ma da un interno di harem e di fronte a me un ritratto di donna era un ritratto di media grandezza in cui apparivano la testa il busto e le mani che tenevano un libro era una donna giovane a capo scoperto capelli pettinati in due bande lisce con un sorriso un po triste non so forse il fatto che fosse a capo scoperto oppure l'impressione che dava quella sua posa naturale ma mai ritratto di non mi parva essere tanto adatto a quella casa quanto quello quasi tutti i ritratti che conosco sono teatrali sia che la dama abbia vesti di circostanza un'acconciatura artefatta un'aria di sapere che posa dapprima davanti al pittore in seguito dinnanzi a tutti coloro che la guarderanno sia che la prenda un atteggiamento di studiato abbandono alcune sono maestose in un fulgore di bellezza con un'aria di orgoglio che non hanno certo dovuto conservare lungamente nella loro vita altre in atteggiamenti graziosi nell'immobilità della tela e tutte hanno qualche cosa un fiore un gioiello una piega della veste o delle labbra che si indovina apposta dal pittore per l'effetto che se portino un cappello un pizzo sul capo soltanto i loro capelli si sente in loro un che di naturale che cosa non si sa poiché non si sono conosciute ma lo si sente sembrano come in visita presso qualcuno presso gente a cui vogliono piacere e qui vogliono mostrarsi con tutto il loro splendore e hanno studiato il loro atteggiamento talora modesto talora altezzoso che dire di quella era in casa sua e sola sì era sola sorrideva come si sorride quando si pensa solitariamente a qualche cosa di triste o di dolce e non come si sorride quando si è guardate era talmente sola e in casa propria che faceva il vuoto in tutto quel grande appartamento il vuoto assoluto lo abitava lo riempiva lo animava da sola vi sarebbe potuta entrare molta gente e tutta questa gente avrebbe potuto parlare ridere anche cantare lei vi sarebbe rimasta sempre sola con un sorriso solitario e sola lo avrebbe reso vivo col suo sguardo di ritratto era unico anche quello sguardo cadeva su di me direttamente carezzevole e fisso senza vedermi tutti i ritratti sanno di essere contemplati e rispondono con gli occhi con occhi che vedono che pensano che ci seguono senza abbandonarci da quando entriamo fino a quando ce ne andiamo dalla casa che essi abitano quello invece non mi vedeva non vedeva nulla benché il suo sguardo fosse piantato su di me e mi ricordai lo sconcertante verso di baudelaire e i tuoi occhi che attirano come quelli di un ritratto mi attiravano davvero quegli occhi ma in maniera irresistibile e gettavano in me uno strano turbamento forte sconosciuto quegli occhi dipinti che avevano vissuto o che forse vivevano ancora che fascino infinito e languido come una brezza che passa seducente come un cielo smorente di crepuscolo lilla rosa e turchino è un po malinconico come la notte che sta per sopraggiungere emanava da quel quadro triste e da quegli occhi impenetrabili quegli occhi creati con pochi colpi di pennello nascondevano in sé il mistero delle cose che sembravano esistere e non esistono di ciò che può apparire in uno sguardo di donna di ciò che fa germogliare in noi l'amore la porta si aprì il signor milial entrò scusandosi di essere in ritardo mi scusai a mia volta per essere arrivato troppo presto e gli dissi sarà indiscreto se vi domandassi chi è quella signora e mia madre rispose morì giovanissima e allora compresi donde venisse l'inspiegabile seduzione di quel uomo